I residenti della zona Trave, in particolare attorno a via Frusaglia, sanno bene che nel loro abbigliamento un bel paio di galosce o direttura stivali di gomma non possono mancare. Da tempo sono abituati a convivere con pozze d'acqua che assomigliano più a vere e proprie piscine naturali, soprattutto andando verso Ponte Mimmo. Ma ora un nostro telespettatore ci ha segnalato una ulteriore possibilità di utilizzo per andare a buttare i rifiuti nei cassonetti della raccolta differenziata. Plastica, vetro, cartone, alluminio, sfalci del verde, ci sono tutti, ma per arrivarci si deve guadare una fanghiglia e ampie pozzanghere, accentuate nel tempo anche dai pesanti mezzi della raccolta che altro non fanno che volta dopo volta scavare vere e proprie trincee di diversi metri attorno ai cassonetti, col risultato che o ti inzaccheri abbondantemente o rinunci alla differenziata. Questa via l'hanno un po' dimenticata, illuminazione non ce n'è per niente e poi come avete visto nel filmato ci sono pozzanghere e qua per andare a portare via l'immondizia, fare anche l'indifferenziato come pretende il comune, qua bisogna fare un po' dei salti mortali, delle volte ci si bagna anche tutto, ci si bagna, volevo vedere se il comune può fare una piazzuola, perché a rimetterci la breccia siamo sempre, lì si vede che ci hanno rimesso la breccia, però i camion quando vengono qua a svuotare i cassonetti cedono sempre perché le ruote laterali destre vanno giù e fanno sempre queste pozzanghere, ormai è da 4-5 anni che è così. Qui siete in parecchi a portare la roba? Eh sì, tutto quel rione qua a via del Signore, queste qua, le ville a schiere che ci sono qua, siamo in tanti. Ci sono anche persone anziane? Anche. Quindi vorreste che almeno la zona di scarico fosse messa a posto? Almeno la zona di scarico che fosse messa a posto, almeno anche l'illuminazione, l'illuminazione. Si era un problema? Sì, perché d'estate, adesso d'inverno no, ma d'estate qua si parcheggiano con le siringhe, si drogano e poi è sempre buio, qua quando spengono le luci della pista ciclabile a mezzanotte qua è tutto un buio totale. Quindi anche per voi sono un po' per il... Si dice sempre dove c'è l'illuminazione c'è mena, vandalismi, qua siamo proprio all'oscuro qua, che poi non siamo neanche in periferia, siamo proprio a ridosso della città, qua siamo.